Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di scarpe da ultra trail di casa La Sportiva, nel particolare quale Jackal 2, Akasha 2 e Karakal e insieme vedremo di capire dove è meglio utilizzare le singole scarpe e soprattutto quale calzatura è meglio per voi. Detto ciò, iniziamo col video. Ci tengo a fare una premessa iniziale, in questo video non vi darò dati tecnici, non parleremo di pregi e difetti eccetera perché ci sono già le recensioni di tutte e tre le scarpe presenti sul canale, ve le linko anche qua sotto in descrizione. In questo video faremo un confronto al di là dei dati tecnici. Quindi, iniziamo subito dal comparto suola. Per quanto riguarda le suole, qui abbiamo delle filosofie abbastanza diverse. Iniziando dal compound. Frixio Red per le Jackal 2 e per le Akasha 2 e vi ricordo che la Frixio Red di La Sportiva è quella che ha il miglior compromesso tra durabilità e grip e poi Frixion Blue invece per la Karakal. Vi ricordo che la Frixion Blue invece è quella che ha la più grande durabilità a scapito di un minor grip. Quindi già qua abbiamo delle suole abbastanza diversi. Inoltre la cosa che cambia molto, ma davvero fa molta differenza, è la forma del tassello perché Karakal e Jackal hanno lo stesso identico tassello, proprio uguale e identico. Cambia molto sulle Akasha. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che le Jackal e le Karakal sono scarpe che vanno molto bene su terreni misti. Un po' di collinari, un po' di single track. Le Jackal 2 anche su qualche roccetta. Sulle Karakal invece le roccette le lascerei abbastanza perdere. Quindi diciamo che le Karakal per la loro suola, proprio collinare, sfondo valle, single track, eccetera. Jackal 2 molto più orientata anche a un tutto fare, diciamo, in cui anche se troviamo dei passaggi su roccette, eccetera, non è un grosso problema. Quella che cambia invece è proprio la Akasha. La Akasha con la sua suola, soprattutto col suo tipo di tassello, innanzitutto è quella che tiene molto bene su fango, perché le altre due su fango stentano parecchio. Ma soprattutto è quella più indicata anche per terreno proprio tecnico. Cioè, se dovete fare una gara su terreno abbastanza tecnico, è quella che ha il miglior grip, la miglior stabilità, ma anche perché avendo un tassello molto più grande rispetto alle altre due, ha una percentuale di suola che va a contatto con la roccia maggiore, quindi più grip. Quindi, ricapitolando un attimo, Karakal per i sentieri più semplici. Jackal 2 un po' tutto fare. Akasha per i terreni anche molto rocciosi. Passiamo a parlare dell'intersuola. Per quanto riguarda le Karakal, sono quelle che hanno, secondo me, l'amortizzazione più secca. Hanno una buona amortizzazione perché comunque ci permettono di fare un po' di chilometri, però non possiamo spingerci tanto avanti. Per intenderci, con questo tipo di amortizzazione, secondo me, possiamo farci gare massimo sui 50-60 chilometri. Akasha, invece, è quella che ha l'intersuola un pochino più rigido, un pochino più duro. Questo per proteggerci dalla roccia in primis, ma con l'inserto contraplate aggiunto dalla sportiva, diciamo che aumenta un po' l'amortizzazione a lungo andare. Quindi diciamo che le Akasha sono quelle un pochino che possiamo stare tra gli 80 e i 100 chilometri, ecco. Una via di mezzo. La scarpa, invece, con la quale possiamo fare più chilometri in assoluto sono le Jackal. Queste Jackal hanno una buona amortizzazione, è abbastanza morbida, quindi davvero una scarpa con la quale possiamo fare anche gare da 120-150 chilometri senza tanti problemi. Per quanto riguarda la reattività, Karakal è quella che ha la minore reattività di tutte e tre. Akasha 2, una via di mezzo. Le Jackal 2 sono quelle che, invece, si può spingere, si può andare veloce, soprattutto grazie alla tecnologia infinito di la sportiva, davvero con queste possiamo correre molto, molto veloce. A livello di Tomaya. Per quanto riguarda la traspirabilità, beh, qui Jackal 2 veramente vince su tutte. È la più traspirante, è quella davvero che se l'ha utilizzata anche in giornate super calde, il piede vi suderà all'interno veramente poco. Neo, però, che essendo una Tomaya molto traspirante ed essendo anche la scarpa la più leggera dei tre, è una Tomaya che protegge veramente poco, cioè se prendiamo dentro in qualche radice, qualche roccia di striscio, qua ci facciamo abbastanza, abbastanza male. Soprattutto poi è una scarpa che, non avendo un grande sostegno laterale, bisogna anche riuscire a saperla portare con una buona tecnica di corsa. La via di mezzo sono le Karakal. È quella che è il miglior compromesso tra protezione e traspirabilità. Ha una buona traspirabilità. Se la utilizziamo in giornate molto calde, magari un po' si suda, però diciamo che la protezione laterale è abbastanza buona. Se prendiamo dentro contro qualche radice, eccetera, non sentiamo gran dolore. Abbiamo anche un buon sostegno quando dobbiamo fare qualche tratto un po' in traverso, quindi diciamo che è un po' una via di mezzo. Quella che ha invece la protezione massima sono le Akasha. Cioè le Akasha davvero hanno la protezione migliore con tutti anche questi inserti in TPU messi sulla Tomaya. È quella naturalmente che ha la peggiore traspirabilità tra le tre, però è anche pensata magari per stare più ad alta quota rispetto alle altre due, quindi diciamo che stando più in alto non è un così grosso problema traspirabilità. A livello poi di fasciatura del piede, le Akasha sono quelle che fasciano di più. Sono quelle che fasciano di più, davvero grazie a tutta questa struttura laterale messa dalla sportiva, possiamo avere una calzata veramente molto fasciante e molto precisa. Via di mezzo le Caracal, quelle invece meno fascianti, in cui se vogliamo una calzatura che stia molto vicina al piede, dobbiamo davvero stringere tanto tanto i lacci, sono le Jackal. Per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede, allora diciamo che Akasha e Jackal siamo lì. L'avampiede è largo, è sicuramente largo, però siamo lì davvero balla, mezzo millimetro, poco nulla. Caracal sono quelle che hanno la grandezza dell'avampiede minore. Per intenderci, qui magari ha più senso prendere un mezzo numero in più, nelle altre due invece potete andare al numero tranquillo che prendete di solito. Per quanto riguarda invece tallone e linguetta, Akasha, classica scarpa che conosciamo, molto tranquilla, ha tanta imbottitura anche sul tallone e sulla linguetta. Idem sulle Caracal, anche se l'imbottitura la troviamo leggermente meno, ma proprio leggermente. Quella invece più scarna è la Jackal. Linguetta Racing è molto scarna di imbottitura rispetto ad altre due. Parte del tallone, anche qua, abbastanza risicato. Naturalmente tutto ciò per renderla la calzatura più leggera e anche più performante. Per che tipo di runner consiglio queste calzature? Allora, le Akasha ve le consiglio un po' per tutti, ma direi che qua la gran differenza la fa soprattutto il terreno. Cioè queste su roccia vanno veramente bene, sono quelle che più vi consiglio per terreno roccioso. Caracal le consiglio più per un principiante. Davvero principiante, uno che si sta approcciando al trail, uno che naturalmente cammina anche molto durante le gare, magari non fa neanche gare tanto lunghe, nel senso che magari di ultra fa 50-60 km, quindi Caracal è sicuramente la miglior calzatura. Jackal 2 invece ha un corridore che vuole andare, vuole spingere, fa ultradistanze, è un corridore che corre anche molto in salita, che gli piace veramente spingere. Un'atleta top, diciamo. Infine, prezzi. Caracal, essendo uscita da due anni, ormai la troviamo sui 90 euro, 100 euro, quindi davvero la troviamo abbastanza scontata. Acacia la troviamo sui 130-140 euro, perché lei è uscita un annetto fa. Jackal 2 sono di quest'anno, sono quelle che costano di più, 150-160 euro in giro. Detto ciò, ragazzi, io ho una speranza di avervi aiutato a scegliere la vostra prossima calzatura, la sportiva. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!